Nell'esecuzione di questa nuova tecnica di lavoro, si sfrutta ogni opportunità come quella di shakerare direttamente con il bicchiere nel quale verrà servito il drink. Così, per esempio, anche le decorazioni vengono conservate già pronte nell'apposito condiment holder. In questo modo il Mai Tai risulta come nella lingua thaitiana, da cui trae il nome davvero il migliore.